AstraZeneca, De Luca dice no al mix di vaccini. Il governatore contro le decisioni del governo in Campania non somministreremo più i sieri a vettore virale a nessuna fascia di età. Chi ha fatto la prima dose con AstraZeneca riceverà il richiamo con lo stesso vaccino. Il caos e le incertezze generano migliaia di defezioni, open day, semi deserti nel fine settimana. Aziende agricole covid free in Irpinia proseguono i vaccini nelle aziende. Da oggi tocca al comparto dell'agricoltura con le prime 154 somministrazioni alla GB Agricola di Montoro. Soddisfazione espressa da Coldiretti riparte in sicurezza a un settore strategico per il territorio. Mille colori per Manfredi, da De Giovanni a Laurito, manifesto per il candidato di centrosinistra, firmatari esponenti della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Martedì arriva Conte per lanciare la volata al suo ex ministro. Omicidio cesarano, processo da rifare, la Cassazione ha deciso e da rifare il processo per il 17enne ucciso dai clan durante una stesa. Per quell'assassinio furono condannati all'ergastolo Antonio Buono, Luigi Cutarelli e Ciro Perfetto. Diocesi Cerreto, ecco il nuovo vescovo. Nel Sannio la cerimonia di insediamento del nuovo vescovo, Monsignor Giuseppe Mazzafaro, sacerdote di Napoli, succede a Don Mimmo Battaglia. Presiedere la cerimonia anche il cardinale Crescenzio Sepe. Il Napoli prende forma tra Di e Conferme. Iussai pronto a dire sì alla Lazio. Petagna può restare. Mertens sarà centrale con Spalletti. Il Comune di Salerno presenta i lavori alla Rechi, tre piste per l'accessione del club. In Serie B il Benevento riparte da Cascia in attesa di Caserta, Avellino, Summit societario con Braia e di Somma per definire il futuro. E questi erano i nostri titoli. Buonasera e buona domenica dal Tg regionale del canale 696. Cominciamo con il pasticcio AstraZeneca. Il governatore De Luca contro il governo vieta in Campania il mix di vaccini. Non somministreremo più i sieri a vettore virale, ha detto. Sarebbe da irresponsabili minimizzare i problemi. E scoppia il caos. Il governatore attacca comunicazione poco chiara fin dall'inizio. Vediamo. De Luca ancora una volta contro le decisioni del governo affida. La linea della regione ha un comunicato diramato al termine di una lunga riunione delle unità di crisi. Ieri il pasticcio della Lombardia con la sospensione della seconda dose eterologa dei vaccini e la successiva marcia indietro. Oggi la ribellione della Campania con De Luca che dice no al mix di vaccini. Da oggi non somministreremo più dosi di vaccino a vettore virale a nessuna fascia di età. Proseguono solo Pfizer e Moderna. Chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca sopra i 60 anni può completare il ciclo con AstraZeneca. Per i soggetti sotto i 60 anni, tranne per chi ha la dodicesima settimana, non si somministrano vaccini diversi dalla prima dose, sulla base di preoccupazioni scientifiche che invieremo al governo, dice De Luca. Sollecitiamo risposte senza le quali manterremo la linea di rifiuto del mix vaccinale. Oggi però il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva chiesto alle regioni di allinearsi alla decisione del governo, dopo il parere del CTS sull'uso di AstraZeneca, un parere arrivato dopo alcuni casi di trombosi tra i più giovani. Ma le vicende degli ultimi giorni relative all'uso del vaccino di Oxford cambiano in modo radicale il livello di fiducia, la sensibilità e la stessa disponibilità dei cittadini in relazione alla campagna vaccinale. Sarebbe irresponsabile ogni atteggiamento di minimizzazione dei problemi, aggiunge De Luca, richiamando la necessità di eliminare nella comunicazione espressioni del tipo «è raccomandato» o «è consigliato» che si dica semplicemente «è consentito» oppure «è vietato». La notizia tuttavia ha fatto scattare il caos. In questo fine settimana sono migliaia le defezioni di cittadini prenotati per i Open Day che non si sono presentati e ora c'è il rischio che almeno 115.000 persone della campagna restino senza la seconda dose di richiamo. L'allentamento delle misure anti-Covid ha portato in strada migliaia di persone questo fine settimana. Tanti giovani che si sono trattenuti anche oltre le 23 e sempre a Napoli. Si è registrata l'ennesima rissa in via Bernini. A decine, tutti senza mascherina, si sono pestati con una violenza inaudita. Ormai il fenomeno sta assumendo una deriva preoccupante con oltre una rissa a settimana nei luoghi della Movida. Così Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. Un'altra rissa si è poi verificata 24 ore dopo a Bacoli dove un 22enne è finito in ospedale con contusioni multiple. E più o meno alla stessa ora un'altra rissa ancora nei pressi dei baretti di Chiaia. L'emergenza Covid nel Sannio, dati stabili, i reparti sono ancora con 10 pazienti, i reparti del Sampio, ma si registra un'altra vittima dopo diversi giorni di tregua. Vediamo. Nessuna dimissione, nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore. Resta stabile la situazione nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera Sampio di Benevento dove sono complessivamente 10 pazienti positivi ancora ricoverati. Intanto il trend dei contagi da giorni si conferma in calo, ma nel Sannio si registra un altro decesso. Non ce l'ha fatto un 45enne di Montesarcho ricoverato però fuori provincia. A darne notizia il sindaco del centro della Valle Caudina, Franco Damiano, che rivolge un nuovo invito alla prudenza alla comunità. Non siamo fuori completamente dalla pandemia. Bisogna continuare il processo di vaccinazioni. Noi ce la stiamo mettendo tutta insieme al distretto sanitario di Montesarcho, insieme all'Asl. Siamo arrivati a 11.500 vaccinazioni e questo ci fa ben sperare. Ma insomma abbiamo visto che nonostante un numero così alto di vaccinazioni abbiamo ancora persone che purtroppo perdono la vita. E oggi è una giornata brutta. Di qui rappello a continuare a rispettare tutte le misure anti-covid previste anche in questa fase dell'emergenza, ma anche ad aderire alla campagna di immunizzazione che questa settimana nel Sannio ha raggiunto la quota del 60% di popolazione vaccinata, almeno con la prima dose, ed ha visto la realizzazione di numerosi open day nei comuni della provincia di Benevento. Il mio appello comunque è la prudenza ad avere atteggiamenti di responsabilità ancora e soprattutto di vaccinarsi. Crollano i positivi anche in Irpinia nel giorno in cui si avviano le vaccinazioni nelle aziende agricole. Un momento importante per la ripartenza di queste attività strategiche nel territorio. Vediamo. Positivi al minimo storico in Irpinia, appena 6 su 456 tamponi analizzati e intanto riparte in sicurezza anche il settore dell'agricoltura. Grazie alla sinergia tra Asle e Coldiretti le prime 154 vaccinazioni oggi ai dipendenti dell'azienda GB Agricola a Casa Barbato di Montoro. Con le vaccinazioni speriamo veramente di poter riprendere la nostra normale attività e quindi che le nostre imprese agricole possano essere in sicurezza con tutti i loro dipendenti e i loro familiari per poter superare questo periodo di pandemia. Un ringraziamento chiaramente all'Asla di Avellino, alla dottoressa Morgante che ci ha consentito di fare questo perché noi del mondo agricolo non vediamo l'ora di uscire da questo incubo del Covid. Presente al taglio del nastro del centro vaccinale agricolo anche la direttrice generale dell'Asla, Maria Morgante. C'è stato un immediato ok da parte dell'azienda perché, ripeto, diciamo che creare più centri vaccinali e già capillare sul territorio perché ne abbiamo già ben 23 e mettere in piedi altri centri vaccinali serve a dare un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale. Da martedì l'apertura di un altro centro vaccinale presso il Radici Resort della storica azienda vitivinicola Mastro Berardino a Mirabella e Clano per poi proseguire in altre strutture che la Coldiretti ha già messo a disposizione. L'idea è quella che è poi sua propria di Coldiretti di essere capillare e di riuscire davvero a raggiungere il maggior numero di persone. L'obiettivo è immunizzare tutto un comparto, quello dell'enogastronomia e del turismo agroalimentare strategico per la ripartenza dell'economia irpina. Noi non andiamo avanti se non produciamo eccellenze agroalimentari di qualità che ci permettono di fare una ripartenza che rimette in moto il nostro turismo. Verso le amministrative, sardine, scrittori e politici insieme nella lista Mille Colori Un progetto politico per sostenere Manfredi, il candidato del centrosinistra, in attesa che arrivi l'ex premier Conte a tirargli la volata. Intanto nel centrodestra Maresca continua ad attaccare Fico, fa campagna elettorale. Vediamo. Da De Giovanni a Laurito, un appello per Manfredi, sindaco di Napoli. Ecco il manifesto Mille Colori per Napoli, firmatari, esponenti della cultura, dell'arte, della politica e dello spettacolo. Un laboratorio in cui si confrontano esperienze di cittadinanza attiva, delle culture, della sinistra politica e ideale. Tra i primi firmatari anche Sandro Ruotolo e l'ex assessore di DEMA Nino Daniele, Maurizio De Giovanni, Gian Felice Imparato, Massimiliano Cuntavalle, Mattia Santori e Giasmin Cristallo per le sardine. Non è solo una lista civica, ma un vero e proprio progetto politico. Un movimento che va a rafforzare il laboratorio giallorosso su cui punta tutto, anche l'ex premier Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle sarà a Napoli martedì prossimo, dopo che già il ministro degli esteri Di Maio ha lanciato la candidatura dell'ex rittore. Il movimento 5 Stelle è compatto su Manfredi, lo sosterremo pienamente per le elezioni comunali. Gaetano è la persona in grado di rilanciare una città che non ha niente da invidiare a tutto il mondo. E Gaetano Manfredi, oltre ad essere un brillante accademico, è stato ministro e quindi ha le competenze politiche e tecniche per fare in modo che la sua giunta a guida della città di Napoli sia in grado di spendere i soldi che arriveranno dall'Europa, che sono l'ultimo treno che abbiamo. Prima di Di Maio è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, ad avere parole di grande fiducia e apprezzamento per Manfredi. Ma su questo punto si è scatenata una polemica senza fine con il candidato del centrodestra, Catello Maresca, che ha accusato la terza carica dello Stato di fare campagna elettorale. La Corte di Cassazione ha deciso, rinviato a una nuova sezione della Corte d'Assise di Appello di Napoli, il processo per l'omicidio di Jenny Cesarano, il 17enne vittima innocente della Camorra, in un raid del 6 settembre del 2015 in Piazza Sanità. Nel 2019 per l'omicidio sono stati condannati all'ergastolo Antonio Buono, Luigi Cutarelli e Ciro Perfetto. Secondo la Cassazione l'omicidio del ragazzo è avvenuto nell'immediatezza di una stesa subita e non è stato il frutto di un proposito premeditato. All'ordinare l'agguato fu Carlo Lorusso, anche lui condannato a 16 anni, adesso collaboratore di giustizia e al tempo esponente di vertice dell'omonimo clan, obiettivo uccidere elementi del clan rivale. Questi però riuscirono a mettersi in salvo. Jenny, del tutto estraneo alle dinamiche camorristiche, fu colpito e ucciso mentre era seduto su una panchina della piazza. Tragedia nella notte a Licola, dove un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118. Per Carlo Postiglione, 43 anni, non c'è stato nulla da fare. L'uomo era alla guida di una Fiat Punto in compagnia di un giovane extracomunitario. Alle 3.30 circa l'auto è uscita di strada, ribaltandosi più volte. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante davanti al quale l'auto ha terminato la sua violenta carambola. La Salma è stata sequestrata per l'autopsia. Ieri pomeriggio, nel Sannio, la cerimonia di insediamento del nuovo Vescovo della diocesi di Cerreto Sanita, Telese Terme e Sant'Agata dei Goti. Monsignor Giuseppe Mazzafaro, vediamo com'è andata. L'episcopato, infatti, non è un privilegio, ma è un servizio. Un servizio ai poveri, ai bisogni dell'uomo, perché nessuno si è lasciato solo. Sono state queste le prime parole del nuovo Vescovo della diocesi di Cerreto Sanita, Telese Terme e Sant'Agata dei Goti. Ieri la cerimonia di insediamento di Monsignor Giuseppe Mazzafaro nella piazza antistante alla cattedrale di Cerreto Sanita con l'ordinazione episcopale preseduta dal cardinale Crescenzio Sepe alla presenza dei Vescovi Campani, tra cui l'Arcivescovo di Benevento, Felicia Crocca. Presenti anche numerose fasce tricolore, fedeli alle associazioni giunte nel Sannio per salutare il nuovo Vescovo della diocesi Sanita. La gioia di oggi è un dono e come tutti i doni diventano nostri se noi li doniamo, se li spendiamo per gli altri, se li condividiamo. Sacerdote di Napoli, Monsignor Mazzafaro, succede all'attuale Vescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che solo fino a qualche mese fa è stato alla guida della diocesi di Cerreto Sanita. Sei bene l'affetto autentico ed incondizionato che mi lega a te, a questa terra fragile, ma densa di orizzonti, che hanno il sapore dell'infinito, alla tua gente, che è un po' ancora la mia gente. A dare il benvenuto della comunità, Monsignor Mazzafaro, il sindaco di Cerreto Sanita, Giovanni Parente. Porgo il benvenuto a Monsignor Giuseppe Mazzafaro, sottolineando quanto sia importante per noi la scelta di essere ordinato Vescovo qui a Cerreto. Andiamo nel Salernitano, è stato inaugurato a Capaccio Pessum il nuovo Lungomare, un'opera strategica in ottica turistica per il sindaco Alfieri, la sua opera più bella. Vediamo. E' soltanto il primo stralcio di un intervento più ampio, ma già cambiato volto al litorale di Capaccio Pessum. La città dei Templi si gode il suo nuovo Lungomare, opera che rientra in un progetto di riqualificazione ambientale di messa in sicurezza della litoranea. L'intervento, inaugurato alla presenza del vicegovernatore Fulvio Bonavitacola, è stato finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti, con i fondi del risparmio postale, per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro. Un'opera attesa, desiderata, sognata e adesso possiamo dire realizzata. Dopo decenni di attese, di mancate promesse, oggi è una realtà. Un'opera che cambierà la storia socio-economica, un'opera che è per la gente, che però incide anche sull'economia. Una passeggiata che si incastona tra la spiaggia e la pinita, quindi su questo miracolo, il bosco sulla spiaggia. Il processo di valorizzazione del litorale, iniziato a gennaio 2020 con l'approvazione in consiglio comunale del progetto definitivo, che avrà un costo di quasi 6 milioni di euro e consentirà di realizzare 3 chilometri di lungo mare, lungo la fascia litoranea del comune di Capaccio-Pestum. È un lavoro difficile da fare, però abbiamo deciso e la politica ha deciso fortemente di volerla, ha stabilito che era una priorità e l'abbiamo finanziata e voluta e realizzata. Questo è soltanto il primo tratto, un chilometro e cento, ma per l'anno prossimo saranno 3 chilometri che la popolazione e i turisti potranno fruire. Incendio in un'abitazione, paura a Cesinali è successo verso le 12 in via Vescovi-Cocchia. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino. Il rogo ha interessato due piani di un'abitazione. Le due squadre di pompieri hanno spento le fiamme e hanno evitato conseguenze gravi, vista la presenza all'interno dei locali anche di una bombola di gas. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte, oltre a un comprensibile spavento dei residenti. Ora parliamo del concorso nazionale La città che vorrei. Importante riconoscimento per una scuola erpina, la media Dante Alighieri-Perna di Avellino, che si è imposta nella sua categoria e ieri è stata ricevuta dal sindaco. Vediamo. Educazione civica e rispetto dell'ambiente è arrivata la vittoria per i piccoli studenti della Perna Lighieri di Avellino, che avevano conquistato la finale nella propria categoria alla terza edizione del concorso nazionale M9 Contest Urban Landscape. Protagonisti, gli alunni della secondaria e della primaria dell'Istituto Comprensivo di Contrada Baccanico. Un contest che ha coinvolto 5.000 studenti che hanno restituito 204 elaborati. Siamo riusciti a riunirli attraverso un videogioco. Colosi collegavano il pomeriggio su un server e lavoravano, studiavano, approfondivano, conoscevano la città. Abbiamo utilizzato le applicazioni Google Earth, Street View, sono entrati nei monumenti, hanno approfondito le tematiche storiche, le tematiche ambientali, hanno approfondito l'agenda 2030. Ottima l'analisi ambientale, si legge nella motivazione del premio Cura e attenzione per lo studio e la presa di coscienza di un territorio che ha necessità di essere riprogettato. Loro l'hanno riprogettato eliminando tutto il superfluo, ridonando alla città di Avellino quel verde che le appartiene per natura e recuperando anche le immagini di Mariniello e di altri personaggi tipici della storia di Avellino che in qualche modo hanno contribuito a farne una città a misura d'uomo. Ecco questa è la dimensione che Avellino un po' ha perso perdendo di vista quelle che in realtà sono le situazioni più importanti come la Rogana, come il ponte della Ferriera che sta accadendo a pezzi e altre strutture che andrebbero recuperate. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. In regia Aldo Fenizia, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.